Saluti e beni beni usano in curso di oggi, bintuno di Gabudani 2017, ovvero su un sagronaca, vunti l'ompio su vaccia ai snoie meso, ai seo a menziano, una guindicina di poliziotosi in via Dalmazia, in Carbogna, o una operazione antidroga, cinque mezzo su dessa polizia con disunità di sicinofila, antifatto perquisizionisi in circa di droga, su operazioni apportava sette arresti su isaccusa vunti di detenzione di droga, dato che si stessi agattava 100 grammi su de'eroina, cocaina e ascici, già i braccio, in dose, un bilancino di precisioni e 200 euro su indinai. Armasa, con distrette sagattata adresa in rivoltura sagarica, e a truvorci si cosa furata in i sderrobatori su accontessi su de'ago in città di, funti l'ompio su vincese i sartificerisi de' castello o una granata militare de' mortaio, che ne carica, is'arrestato su funti sette disoccupato su residenti in sa città di De' Garbogna. Sant'Adi parli di un uvogo mosto apposta con su accontessi o sanotti passare in su gas efficio, trese i mezzosus derrutusus, intervento l'estu dei vigili su de' suvogo, a fatto maniera che suvogano se si risprazzano, funti indagenti i scarabinerisi de' Sant'Adi. E poi da uso di riforma sanitaria, una dobbio di questa maggioria, che va appareggiare sul calendario di questa riforma, di questa rezza di Suspiralisi, alla lompi in aula questa riforma martedì 26 de' Gabudani. Il segmentamento di Santa Deppi l'Ompia, introdue su 29 di questi mesi, aici, is' proposta, sa pomodai salei, andrà tornare in commissione, e poi appareggiare su questo ultimo gusso de' approvai. In commissioni, Santa Deppi vuoi dare dei dudas a dei sindicosi, che proprio in stadio di oggi, sanci, alla Torraia Annaia, su presidenti della sua commissione, Raimondo Perra, adesso è presente il vizio dell'assessore sanitario, Luigi Arru, e su governatori, Francesco Pigliaro. Sant'Uanni Swerge, una noa dei utilitari scadenti sui esi dei mesi della Daminis, preguntas a voi viaggiosi dei sui studenti si vendonari, si interessano sui volentieri a tali modi sui sui giassi istituzionali, poi ti fa questa pregunta, che sui chiedenti un reddito di sé, non più sarto, di 24.000 euro sui assanno. Dopo no, se c'è la musica, novas festival, si rassignaghi di Saboru 23 de' Gabudani, a Raponi Impaia, inghizzai dei Setti de Merì, Stefano Cherchi, Elsa, Maurizio Chi, Toni Canto, Celeste, Perry Frank, Sergio Panavaria, Fabio Conque, Fabio Bernardini, questa location è questa gruta di Sant'Uanni, questa è una delle organizzadori che si è chiusa di amostare a suo pubblico, una maniera noa di ascoltare musica, insomma a tessi tempi, dove si nasce, si è grossi, rari e interesse, poi i giassi e i sprendi naturali del suo territorio. E sarà usato con un'altra noa di cultura, sui 23 de' Gaburani, in questa sala del suo vortico, che sta accanto al suo teatro centrale, in Carbonia, c'è la mostra personale di Luigi Angius, a Parigiara, con il saggiore del suo comune di Carbonia. Le inaugurazioni sarà fai sui 23, ai 6 di Merì. La mostra sarà poi i bisittai, fino a sui 30 de' Gabudani, a Mengiano dei Sveci a Mesudì, a Merì dei Sesi a Isottus. L'artista Luigi Angius sarà mostrato al pubblico, tra baloso di grafica e incisioni di livello arte, in tra l'astraza Zincarasa e Acqua Fortisi, operasa di arte, chiedenti uno senso estetico arte, ma vincese a capio su dei rettentus, che divertò canta sa storia dei Sautori e sa storia della città di De Garbunia. E questo, a Pari Nostro, vi è andata in osa del Porto, voi, 21 del Gabudani 2017, grazie a tutti, vi è chiuso informazioni in Sardù, in Canale 40, e adios.